La Regione Umbria è presente alla Fiera del Turismo di Rimini. Svilupp Umbria ha realizzato questo entusiasmante stand mettendo insieme operatori turistici e denti locali. Infatti in questo importante spazio c'è proprio la possibilità di rappresentare l'offerta turistica dell'Umbria sia da parte delle nostre strutture ricettive che da parte dei nostri territori. Per la prima volta è presente allo stand della Regione Umbria anche tutta l'offerta enogastronomica con una possibilità di degustazione grazie all'assessorato all'agricoltura, ai gall, alle strade dell'olio e del vino. Uno stand che rappresenta proprio l'insieme delle attività che l'Umbria dedica al turismo.